Nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana è stato presentato il campionato italiano di Twirling che si terrà dal 18 al 20 maggio a Santo Stefano di Camastra. Il progetto fuoriesce dai confini della mera attività sportiva e si propone di mostrare le opportunità che la Sicilia offre anche in termini di sensibilità e solidarietà. La finale sarà infatti dedicata alla piccola Federica Calà, la bambina di Rocca di Caprileone affetta da Smart 1 che ha voluto donare i fondi raccolti dalla sua associazione alla ricerca. Dopo ben 11 anni dunque il campionato italiano di Twirling ritorna in Sicilia, regione che in quest'ultimo periodo ha fatto passi da gigante in questa disciplina, contando 28 società e circa 800 atlete tesserate. Vogliamo raccontare una Sicilia positiva, ha detto il direttore artistico dell'evento Alfredo Lofaro. L'obiettivo della manifestazione è far vedere le bellezze e le eccellenze della Sicilia, spoiandoci dalle negatività che molto spesso fanno vedere i media. Madrina dell'evento sarà la tre volte campionessa di para powerlifting Roberta Macri, che accenderà il tripode e darà il via alla manifestazione.